In pochi giorni si è passati da via Fosso Pioppo, laddove una persona intorno alle 21 abbandonava sul ciglio della strada ben sei sacchetti di immondizia, ovviamente è stata identificata dalle telecamere comunali di sorveglianza ed è stato stanzionato al nobile gesto, sempre immortalato dagli occhi elettronici, di una persona che si accorge del vario materiale sparpagliato in via Valsecchi e decide di spendere del suo tempo per raccoglierlo. Il bellissimo esempio di civiltà è stato reso noto dalla sindaca Cecilia Francese sulla sua pagina Facebook, dove oltre alle immagini ha postato «Ebbene, come possiamo osservare nel video, la signora stava passeggiando e non era tenuta ad accorgersene, semplicemente poteva voltarsi dall'altra parte, ma non l'ha fatto, è rimasta lì e pazientemente, uno per uno, si è adoperata spontaneamente per dare il proprio contributo alla pulizia di quell'area. Un gesto forte, di grande valore morale e senso civico, per il quale, conclude la sindaca, appare doveroso manifestare tutto il nostro appezzamento e gratitudine. Intanto, tanti commenti dei cittadini che chiedono di premiare questa signora per il suo immenso valore civico e rispetto per l'ambiente.